Dino Buzzati è il protagonista della prima esposizione che il Museo Burel ha scelto come apripista di un percorso volto ad esplorare il tema della vertigine. Dell'artista bellunese viene considerato ed esposto un disegno, uno schizzo sul retro di una lettera, un segno semplice ma allo stesso tempo magmatico e densissimo, come dice la direttrice del museo Daniela Zangrando. Abbiamo presentato Vertigine di Dino Buzzati che è lo start di quest'anno di programmazione del Museo Burel, ogni anno il museo prende un filo conduttore che ha a che vedere col territorio, che si insinua proprio nel territorio e abbiamo pensato che questo quadro della vertigine riguardi un po' tutte le persone che vivono in montagna. Dino Buzzati è scelto perché è una figura che si è occupata tanto e ha vissuto e sperito la vertigine a tutti i livelli, quella amorosa, quella mortifera, quella proprio della montagna, dell'alpinismo, quella della scrittura, dell'ossessione per la scrittura, ci sono tantissimi aspetti che lo riportano al vertiginoso. Vertigine Dino Buzzati è il punto di partenza di un viaggio trasversale composto da artisti, scrittori, alpinisti, registi, filosofi e figure legate alla cultura contemporanea. Ogni anno appunto viene scelto insieme un po' alle persone che collaborano col museo e con gli artisti di affidare proprio alle persone che si occupano di cultura contemporanea questi filoni e lasciargli interpretare, quindi lasciargli carta bianca. Anche quest'anno poi avremo anche degli artisti, dei giovani artisti, dei letterati, dei registi, quindi tutte figure che si occupano di contemporaneo. La mostra sarà aperta fino al 17 luglio, tutti i sabati e le domeniche, da domenica 5, dalle 16 alle 20.